Musica Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Cari fratelli, cari sorelle, no rifai, ho dimenticato il bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, cari fratelli, cari sorelle Benvenuti in un nuovo puntato delle pillole di saggezza Benvenuti in un nuovo puntato di pillole di saggezza In questo video... Pillole di saggezza? Pillole di ramadan? Ah, devo già iniziare Benvenuti in un nuovo puntato di pillole di ramadan Hai già cominciato? Sì Basta Ma andiamo a vedere per esempio che cosa possiamo... Mi sono impappinato, non mi viene... Ci avviciniamo sempre di più al sacro mese di ramadan Perciò è bene import... È bene... Sì, ciao 3, 2, 1, aspetta 3 secondi, via E questo mese che viene definito... Samy, ho guardato di là un problema... Nel surat il Baqarah Vi è prescritto il digiuno come è stato prescritto Mi sono perso ragazzi... Adesso? 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 Ma mi sto andando in agitazione adesso... Sì, ci sono... Pratadizione è ricordata... Ora devo iniziare o...? Ok... Però c'è un detto italiano che dice... Se mi guardi così mi fai venire nervoso... Ricordatevi che chi dorme non piglia il paradiso... Non la passa via... Mi sono fatto tutto l'impiato... Prendetemi conto... Stavo quasi per finire... Mi ammazzo! Ma che cosa sto dicendo? Ma che cosa... Non devi mai prendere in considerazione le cose... Solo da un punto di vista... Mi finirai perché... Ti sei... Cosa ho fatto? Nel giorno del giudizio... Ovviamente è il mese di Ramadan... Nooo... Perché ti ceppi là? E te lo ho detto... È così che vado... Il Ramadan venne scritto sulla... Prescritto! Subito... Il digiuno... Basta non so più andare avanti... E questo è tutto... Ciao! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Grazie a tutti